Era ricoverato da alcuni giorni a Cesena per il Covid. Raul Casadei aveva 83 anni. Si vantava di aver inventato il termine, liscio, che indicava la musica ereditata dallo zio secondo, nel suo repertorio Romagna Mia e Ciao Mare 13 marzo 2021 dichiara pizzimenti per un pezzo d'Italia è come se fosse mancato uno di famiglia. Raul Casadei era la Romagna, nel senso più genuino del termine, quella delle vacanze estive, delle canzoni che conoscevi senza averle imparate, che sentivi fin dall'infanzia dalla radio pubblica in spiaggia, tanto capaci di rimanere dentro che all'ultimo Sanremo c'erano gli extra liscio, gruppo che ha nel nome quel liscio che Casadei suonava e a cui si vantava di aver dato il nome. Aveva 83 anni ed era ricoverato da martedì 2 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena per Covid. Si era contagiato insieme a gran parte della sua famiglia che è ancora in isolamento in quello che lui stesso chiamava il recinto Casadei. Al Corriere della Sera aveva raccontato che quella casa comune a Cesenatico era la cosa più bella della sua vita, ci viviamo in tanti, le mie figlie con i fidanzati, mio figlio Mirko, che è già nonno, mangiamo spesso insieme, coltivo l'orto per tutti, faccio il vino biologico e vado a prendere il pesce dalle barche. Era sposato da oltre 50 anni con Pina, maestra napoletana conosciuta in Puglia, tre i figli. Raul Casadei era il reliscio, la musica di un pezzo di mondo, la musica da ballare a due sulla pista. Romagna mia, del 1954 la sanno tutti, anche Chiarimini o Cesenatico non ci ha mai messo piede, ciao mare del 1973 e simpatia sono altrettanto famose, come la mazurca di periferia, Romagna e San Giovese, Romagna capitale. Siamo le vere radici, l'identità diceva Casadei che ha fatto migliaia di concerti e inciso decine di album. Dagli anni 70 saliva sul palco 365 giorni all'anno. Era il boom del liscio, il ballo da balera, era la Romagna piena di italiani e tedeschi. Aveva ereditato l'orchestra dall'Ozio II e l'ha lasciata a suo figlio Mirko, ma lui ancora ci saliva sul palco ancora. Si dedicava anche ai suoi piaceri raccontati sempre al Corriere della Sera. Questi sono vizi belli. Fumo il sigaro toscano, bevo una grappina e il San Giovese da 14 gradi di mia produzione. Faccio un'ora di ginnastica tutte le mattine mentre ascolto prima pagina, il programma delle 7. 15 su Radio 3 Quindi, faccio un'ora di nuoto. Prima di entrare nell'orchestra dello zio, fondata nel 1928, aveva fatto per 17 anni il maestro elementare. Dal 1971, alla morte di secondo, era diventato il leader della formazione. Dal 2001 l'orchestra è guidata dal figlio Mirko. La sua Romagna mia l'hanno cantata tutti compresa Gloria Gaynor. Immediato il cordoglio dello spettacolo e della politica. Con lui se ne va uno straordinario personaggio, un compositore che con grande professionalità ha portato in Italia e nel mondo un messaggio musicale profondamente radicato nella tradizione, legato all'allegria e alla voglia di vivere fino a diventare uno dei simboli, un ambasciatore della sua e nostra terra. Ha detto il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Sono certo che il nostro Raul continuerà a vivere nella sua musica, e noi non dimenticheremo colui che per noi. Sarà sempre il re del liscio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.